Tu devi cercare di capire cosa vuole. C'è chi è alle prese con problemi di cuore. Chi pensa che sia tutta questione di cervello. Spero che suo marito capisca che i farmaci hanno alterato la chimica del cervello, che ha alterato il suo comportamento. E chi per una volta decide che bisogna avere pegato. Ti rendi conto di cosa hai fatto? Ho salvato la vita di una bambina. Preparatevi ad ascoltare il vostro corpo. In prima assoluta, Private Practice, quinta stagione, dall'8 marzo su Fox Live. Lunatica. E tu come ti senti? Dillo su Fox Live.